La cultura online sulla salute mentale e disturbi post-traumatici del lockdown. Quali effetti del covid a livello psicologico? Come superare l'esperienza pandemica senza il cosiddetto disturbo post-traumatico da stress? Ne parleremo in diretta streaming con Daniele Labarbera, professore ordinario di psichiatria all'Università di Palermo, subito dopo la sigla. Benvenuti a tutti i nostri collegati tramite le pagine Facebook del Sicilia.it e Clips e comunicazione in media. Oggi parleremo appunto di covid, stress da covid e tutto quello che ovviamente ruota attorno al lockdown e alla pandemia. Lo faremo con il nostro ospite, il professore Daniele Labarbera. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Questa sera anch'io c'ho il balberto della pandemia. Allora, un argomento ovviamente che, come si vuol dire, nessuno è escluso. Giusto Daniele? Beh certo, credo che ci riguardi tutti. Veramente tutti e nessuno si può tirare fuori da quelle che sono state le varie tipologie di coinvolgimento emotivo, cognitivo. Ciascuno di noi ha avuto un impatto molto forte con questa situazione che, è bene ricordarlo, si presenta per la prima volta nella storia dell'umanità. Perché è vero che ci sono state in passato numerose altre pandemie, ma nessuna è stata una pandemia dell'epoca postmoderna. E questo è importante perché la pandemia da coronavirus ha tutte le caratteristiche di una pandemia della postmodernità, perché si avvale... scusami Daniele se ti interrompo, anche amplificato nel bene o nel male dal web e dalla tecnologia ovviamente mediatica, vero? Certo. Una delle ragioni per cui deve essere considerata una pandemia postmoderna è il grande livello di mediatizzazione che ha avuto e che continua ad avere. assieme alla pandemia, sin da subito, si è sviluppata una infodemia, cioè un sovraccarico informazionale che ha contribuito a direzionare la diffusione del virus, perché la quantità di notizie e la qualità delle notizie veicolate dai media ha finito per ribaltarsi sulle linee di diffusione del virus, condizionando i comportamenti delle persone. Quindi infodemia e pandemia sono andate parallelamente. questa è una delle caratteristiche di una pandemia postmoderna e l'altra caratteristica, lo dico subito, è la facilità con cui il virus si è diffuso rapidamente in tutto il mondo grazie al fatto che siamo una società tecnologica avanzata e quindi abbiamo un altissimo livello di viaggi, di traffici, di scambi, di commerci, di incontri. Quindi tutto questo ha favorito enormemente la diffusione del virus in ogni dove, in tempi rapidissimi e in tutti gli angoli del pianeta. Senti, quali effetti del Covid a livello psicologico proprio nel quotidiano? Ma dicevo che tutti siamo stati in un modo o in un altro profondamente coinvolti da questa situazione. Proprio perché, come dicevo, è una situazione unica, che non ha precedenti nella nostra storia e come tutti gli eventi a forte impatto, diciamo imprevisti, anche se non imprevedibili, non era del tutto imprevedibile che succedesse una cosa di questo genere, ma per l'uomo della strada tutto questo è stato un avvenimento che non ha precedenti, quindi un avvenimento assolutamente nuovo verso il quale cercare di trovare una qualche forma di adattamento. e gli adattamenti sono stati molto diversi da persona a persona. Non esiste una sola reazione psicologica, ma esiste un ventaglio ampissimo di reazioni psicologiche che da due anni a questa parte noi cerchiamo di mettere in movimento, alcune molto elevate, molto alte, molto positive, quindi con una buona capacità di trovare strategie adattive valide ed efficaci, altre invece dominate maggiormente da aspetti più irrazionali naturalmente più noi in questi due anni siamo riusciti a trovare un adattamento che si è basato sulle nostre risorse emotive migliori, più abbiamo vissuto bene e abbiamo fatto vivere bene coloro che ci stavano accanto, più le nostre reazioni sono state dominate da emozioni negative, come può essere la paura, l'insicurezza, l'angoscia o addirittura modalità irrazionali di affrontare tutta questa situazione così complicata, più questo ha contribuito a farci vivere male e a diffondere in noi e attorno a noi tutta una serie di disagi di vario genere. Quindi io vorrei sottolineare questo, che ci sono state reazioni magnifiche di persone che in questo periodo hanno maggiormente dimostrato solidarietà, altruismo, capacità di mettersi a disposizione degli altri, capacità di trovare davvero qualità e risorse adeguate per dare una mano agli altri oltre che a se stesso. Altri invece che hanno avuto delle modalità fortemente regressive che d'altro canto in alcune fasi della pandemia anche le esigenze di protezione hanno determinato. Non dimentichiamo che l'anno scorso siamo stati due mesi chiusi in casa e già questa esperienza ha delle conseguenze sul piano psicologico ampissime. Anche qui con reazioni molto diverse da persona a persona, da famiglia a famiglia, le più diverse, ci sono famiglie che si sono trovate più unite, più aggregate, più solidali, più collaborative, altre famiglie che invece hanno vissuto momenti di forte conflittualità, di aumento dell'aggressività, dell'incompatibilità, dell'incapacità di dialogare. Naturalmente anche in rapporto a tutta una serie di fattori esterni, ambientali, sociali, economici, perché affrontare il lockdown in una casa ampia, ricca, con un bel giardino attorno o affrontarla in 60 metri quadri, una famiglia numerosa, con scarse risorse economiche, significa avere a disposizione ovviamente strategie adattative completamente diverse. Certo, certo. Effettivamente è una situazione molto delicata. Su questo qual è il rischio più diffuso a livello psicopatologico, Daniele? Anche in questo caso noi abbiamo notato una serie molto ampia di situazioni legate proprio a un disagio psichico, vero e proprio quindi all'emergere di difficoltà a livello psicologico e psichiatrico, tu hai detto bene psicopatologico, sia come accentuazione di condizioni preesistenti alla pandemia, faccio riferimento per esempio a tutte le persone che già in precedenza soffrivano per esempio di problematiche fobbiche, ossessive. Quest'area è stata una delle aree psicopatologiche che si è maggiormente allargata perché se ci facciamo caso molte caratteristiche delle misure precauzionali in qualche maniera andavano in questa direzione, stiamo attenti ai contagi, stiamo attenti a mantenere la distanza, stiamo attenti ai lavaggi ripetuti delle mani, cioè praticamente ci è stato chiesto di attuare nei nostri comportamenti quotidiani delle nuance fobiche e ossessive, perché il fobico ossessivo fa questo, c'è un ipercontrollo, un'iperattenzione sulla pulizia, mette in atto un'ipervigilanza costante, quindi le persone che già soffrivano o erano inclini a vivere condizioni di questo genere spesso sono andate incontro a un'accentuazione di queste problematiche, quindi ansia, patofobia, ipocondria, meccanismi ossessivi compulsivi di controllo, rituali di pulizia, tutto questo l'abbiamo visto emergere con molta chiarezza, così come sono aumentati i disturbi ansiosi, i disturbi depressivi, difficoltà a elaborare anche tutte le problematiche di tipo lavorativo, socio-economico, pensiamo al danno di molte attività commerciali, pensiamo a quante persone hanno avuto perdite economiche gravissime, quindi con delle ricadute anche verso condizioni di ansia, di depressione, quindi c'è stata davvero in questo periodo un'emergenza psichiatrica senza precedenti, è stato calcolato che circa 250.000 persone dal febbraio dell'anno scorso a oggi hanno manifestato nuovi disturbi psichici, oltre a quelli che già conoscevamo ed erano già in carico presso i servizi pubblici, quindi davvero un impatto fortissimo sulla salute mentale e quindi un attacco a quello che è stato il nostro equilibrio emotivo e affettivo senza precedenti da questo punto di vista. Che sono cambiati anche, tra virgolette, un po' i nostri costumi, sì, ma anche, come dire, a livello istintivo, se in un luogo, diciamo, un po' affollato comunque con altra gente, sentiamo uno starnuto, un colpo di tosse, subito, istintivamente, ci mettiamo sull'allerta. Sì, è vero. Noi abbiamo, in pratica in questi due anni, abbiamo implementato, cioè abbiamo in qualche maniera internalizzato delle modalità di ipervigilanza che ci fanno, diciamo, essere molto guardinghi, molto attenti rispetto a quello che succede attorno a noi. E questo, diciamo, in parte è anche funzionale alla possibilità di, come dire, non abbassare troppo la guardia e continuare a proteggersi, perché è vero che stiamo affrontando una fase che sembra molto positiva in quanto a riduzione dei contagi, dei positivi, delle ospedalizzazioni, però ricordiamo che siamo ancora ai primi di ottobre, non sappiamo bene che cosa succederà questo inverno e ricordiamo soprattutto, lo accennava l'altro giorno il professore Silvio Garattini, del Mario Negri, che in molte parti del mondo la pandemia è ancora molto florida e fino a quando noi non domineremo i contagi in tutte le aree geografiche ci sarà sempre la possibilità di un'emergenza, di una qualche nuova variante, magari in una parte sperimentale del globo terraqueo, che però nell'arco di poche settimane arriverà anche in Europa e in America, quindi non abbassare la guardia, tutto sommato in questo momento mi sembra un fatto ragionevole, pur cercando di recuperare il più possibile, diciamo, una forma rivista di normalità, una forma un po' riveduta e corretta, ma allo stesso modo soddisfacente di normalità, soprattutto se paragonata a tutti i periodi di gravi restrizioni che abbiamo subito fino a qualche settimana fa. La buona notizia è che la Sicilia diventerà bianca fra qualche giorno e quindi anche questo è un passo avanti verso la possibilità di liberarci finalmente da questo incubo. Senti Daniele, è proprio questa, appunto, ultima notizia, che da lunedì si diventa zona bianca, hanno aperto, diciamo, a pieno ingresso, teatri, cinema, eccetera. Discoteca al 50%. Esatto, ma non è un po', diciamo, azzardoso guardando però il panorama, cioè l'insieme di tutto il problema pandemico, secondo te? Io credo che rispetto alle dinamiche di diffusione di questo virus noi in questo momento non abbiamo una possibilità di abbattere a zero il rischio complessivo. Dobbiamo cercare ragionevolmente di recuperare, come dicevo, questa forma riveduta, rivista, un po' limitata di normalità che però ci consenta anche di vivere in maniera un tantino più serena, ci consenta di rimettere in moto tante attività economiche e commerciali che hanno patito enormemente, ma soprattutto ci dia la possibilità di percepire che torniamo a vivere secondo degli standard che assomigliano il più possibile a quelli che precedevano l'inizio di questa condizione drammatica. Cioè è importante anche a livello psicologico il fatto di andare a cinema ma non è tanto per vedere il film, ma perché ritornando a cinema veramente proviamo un'emozione legata al fatto che stiamo recuperando spazi di vita, spazi di esistenza che appunto si avvicinano alla normalità di prima e questo è molto rinfrancante per la nostra mente, per il nostro sistema emotivo e cognitivo. Non scordiamo che già da alcuni mesi molti scienziati hanno sottolineato proprio rispetto al benessere psicologico la comparsa di questa pandemic fatigue che è una sorta di disagio psicologico molto diffuso in tutta la popolazione del mondo legato proprio alla fatica di dovere continuamente pensare al contagio, proteggersi dal contagio, temere nuove ondate di infezioni. Quindi recuperare spazi di normalità in questo momento ci serve anche se ci dovesse esporre a una marginalità di rischio che comunque sarebbe impossibile eliminare completamente. Certo. Un'altra domanda. Come superare la criticità causata dalla pandemia? Lo accennavo poc'anzi. Tutte le volte che noi rispetto a un ostacolo più o meno rilevante, è più o meno significativo, facciamo riferimento alle migliori energie che abbiamo, quindi alle qualità più elevate, alle risorse più alte, che possono essere appunto mettersi a disposizione degli altri, coltivare i propri interessi, impegnarsi maggiormente nell'attività lavorativa, sviluppare relazioni positive con gli amici, con i parenti, con i colleghi di lavoro. Quindi mettere in atto strategie elevate, fare ricorso alle qualità migliori che sono dentro di noi. Questo è un grossissimo aiuto per consentirci di passare attraverso questo periodo difficile pagando il prezzo psicologico minore. Questo naturalmente richiede un impegno, richiede delle condizioni favorevoli per poter mettere in atto queste risorse favorevoli. Non tutti oggi sono in grado di farlo, non tutti hanno un contesto che consente di reagire positivamente e favorevolmente. Abbiamo accennato a quante difficoltà sul piano economico, lavorativo, sociale, però tutte le volte che è possibile, tutte le volte che le condizioni ce lo consentono, noi dobbiamo fare riferimento a quelle qualità migliori che possediamo e che ci consentono di vivere meglio noi, di fare vivere meglio gli altri. Perché se una cosa abbiamo capito da questo periodo così difficile è che non ci si salva da soli, è che noi possiamo stare meglio quando badiamo al nostro benessere coinvolgendo nel nostro benessere anche il benessere degli altri. Forse questa è la lezione più straordinaria che la pandemia ha cercato di darci. Secondo me ce ne sono molte altre, ma questa legata proprio all'interrelazione di tutti gli esseri umani, alla possibilità di trovare una modalità comune, di superare gli ostacoli che ci preservi e ci aiuti e ci protegga insieme, questo è un fatto fondamentale, perché abbiamo capito che la nostra società è fortemente orientata su parametri sistemici. Noi non siamo monadi, viviamo in maniera assolutamente collegata e interrelata e quindi questo aspetto dobbiamo tenerlo presente anche quando troviamo strategie per stare meglio. Dobbiamo coinvolgere nel nostro benessere anche il benessere delle persone che ci stanno accanto e così staremo molto meglio noi e molto meglio loro. Certo. Quali effetti a distanza dal Covid, Daniele? Questo è un argomento molto studiato a livello scientifico. Noi abbiamo avuto sentore che il Covid in alcuni pazienti, il cui numero sta diventando significativo, non si esauriva del tutto alla negativizzazione del tampone, cioè quando apparentemente l'infezione sembrava terminata e quindi si poteva pensare a una guarigione definitiva. In alcuni pazienti effettivamente per fortuna funziona così. si negativizza il tampone, i sintomi respiratori scompaiono, il paziente recupera la sua energia, la sua funzionalità e quindi si può dire guarito. In un certo numero di casi, però, che ripeto sta cominciando a diventare significativo, la malattia sembra non estinguersi, sembra perdurare mesi, a volte anche parecchi mesi, lasciando quindi degli strascichi, lasciando dei residui che a volte sono particolarmente disabilitanti, perché si parla di questa sindrome post-Covid o long-Covid, quindi un Covid prolungato con un residuo sintomatologico che può riguardare sintomi respiratori, non facilmente curabili e controllabili, sintomi cardiocircolatori, ma soprattutto anche sintomi neuropsichiatrici. Abbiamo visto diversi casi di long-Covid e caratterizzati proprio da questa sorta di nebbia cognitiva, quindi difficoltà di concentrazione, difficoltà di attenzione, senso di confusione mentale, senso di non poter disporre adeguatamente delle proprie energie psicologiche, insonnia, ansia, depressione, tendenza al pianto, astenia, anche sintomi più di tipo neurologico, come quelli che sono stati anche descritti nella fase... Questi soggetti che non hanno, diciamo, avuto patologie particolari, oppure già soggetti che hanno... No, stiamo parlando di soggetti che erano integri prima dell'infezione. Esatto, che non avevano nessun problema. Quindi che non avevano polipatologie particolari. Sto parlando anche di soggetti relativamente giovani, trentenni e quarantenni. A Palermo ci sono molte persone in questa fascia di età che in questo momento patiscono condizioni di long covid molto, molto impegnative. Che prima del covid avevano una vita assolutamente piena, ricca, attiva, dinamica, vivace e che adesso patiscono una condizione di disabilità che impedisce loro di vivere in maniera adeguata e normale, di recuperare un pieno stato di salute. Quindi questi strasci che a volte sono estremamente complicati, difficili e impegnativi e oltretutto abbiamo poche strategie terapeutiche per intervenire. Soprattutto per quelli che sono i sintomi respiratori, il residuo dei sintomi respiratori. Maggiori chance abbiamo, lo abbiamo anche verificato noi nel nostro ambito specialistico, per quello che riguarda invece i sintomi di tipo neuropsichiatrico. Questi si possono affrontare con delle terapie mirate in maniera più adeguata e con possibilità di risoluzione molto migliore. Certo. Ovviamente questo è una panoramica, come hai ben detto, di soggetti integri che non hanno avuto nessun problema. Ma a livello psicologico chi invece ha superato la malattia cosa affronta? Beh, chi ha superato la malattia se l'ha superata completamente, proprio oggi mi è capitato di leggere un resoconto su un social di una persona che è uscita all'ospedale, non ha più sintomi e chiaramente c'è una percezione di un recuperato benessere, quindi il piacere di ritornare alla propria vita e di avere scampato un brutto pericolo. Questa persona a cui mi riferisco, tra l'altro, aveva avuto una situazione difficile in ricovero ospedaliero e anche in rianimazione. Quindi quando la malattia scompare del tutto, naturalmente si ha la sensazione di avere superato un momento veramente critico e quindi c'è una sensazione di un nuovo inizio, una sorta di rinascita dopo una malattia potenzialmente mortale che ha messo a dura prova le capacità di resistenza dell'organismo. Quindi in questi casi, come dire, la vita sembra più bella di prima, quando il Covid è completamente superato e si è passati attraverso questa bufera, magari pagando nella situazione acuta un prezzo elevato, poi la vita non ti è sembrata mai così bella. Quindi certamente le reazioni psicologiche sono positive, c'è la voglia di tornare al più presto alla propria attività, alla propria famiglia, ai propri standard esistenziali. Hai detto famiglia, e la famiglia come viene coinvolta a livello proprio psicologico nei soggetti fragili? La famiglia ha un carico notevole, ha un carico notevole perché l'ansia, il sentimento di insicurezza, il coinvolgimento emotivo sono elevatissimi. Noi abbiamo preso in carico familiari che hanno avuto delle sindrome da stress proprio per l'assistenza a parenti stretti, a familiari stretti che hanno avuto delle condizioni di Covid gravi e queste condizioni di stress sono veramente molto alte perché naturalmente si teme per la sopravvivenza e per l'incolumità dei propri familiari. Per non parlare poi di quei gruppi familiari, anche queste sono osservazioni che abbiamo ripetuto molte volte in questi mesi in cui due o tre membri sono stati coinvolti nell'infezione. Ci sono state famiglie che hanno visto praticamente nello stesso arco di tempo due, tre, quattro membri di una stessa famiglia ricoverati in ospedale, qualcuno magari anche in terapia intensiva e questo si può immaginare che carico di malattia e che carico emotivo negativo queste famiglie hanno dovuto sopportare. Anche questi aspetti, quando si tende un po' a sottovalutare e a giocare un po' con le ipotesi cervellotiche volendo un po' a tutti i costi e ridimensionare la portata di questa pandemia terribile, bisognerebbe fare riferimento a queste storie di vita, bisognerebbe conoscerle bene, parlare con queste persone e chiarirsi un po' le idee che il Covid non è stato inventato per creare panico nella popolazione. Il Covid è una malattia veramente pesante, importante, da cui bisogna difendersi in maniera molto razionale e molto attenta. non per ultimi gli operatori, perché gli operatori hanno vissuto diciamo come dire uno stress e una pressione non indifferente perché all'inizio come tutti esposti e inermi, giusto Daniele? All'inizio l'esperienza è stata veramente terribile, non dimentichiamo che gli operatori sanitari a centinaia sono morti l'anno scorso, a centinaia, medici, infermieri, parasanitari, hanno pagato un prezzo altissimo, l'impatto della malattia in ambito sanitario dal punto di vista di chi cura è stato veramente devastante e chi è riuscito a sopravvivere comunque soprattutto l'anno scorso, poi quest'anno abbiamo trovato degli adattamenti un po' diversi nel frattempo le conoscenze sulla malattia sono aumentate progressivamente ma l'anno scorso c'è stato anche un livello di burnout cioè di stress da lavoro inimmaginabile noi abbiamo avuto molti contatti nello sportello telefonico che abbiamo reso disponibile sia ai pazienti sia ai familiari sia agli operatori abbiamo avuto molte richieste di intervento psicologico anche da parte di operatori sanitari di colleghi anche di colleghi che lavorano presso la nostra struttura del Policlinico di Palermo che davvero hanno vissuto condizioni in cui giornalmente si dovevano confrontare con la possibilità che molte persone ricoverate ci lasciassero la vita non superassero condizioni di malattia grave immaginate che tipo di pressione psicologica e di stress emotivo tutto questo può comportare curando tra l'altro una malattia che poteva mettere a repentaglio anche la loro salute la loro stessa salute e la loro stessa vita condizioni anche queste di stress emotivo mai vissuta in precedenza certo e appunto queste storie che purtroppo magari anche i media forse non raccontano bene in maniera capillare per far capire veramente il peso di queste vite spezzate da una pandemia e lì ovviamente come tu hai detto già altre volte c'è un argomento particolare appunto questi no vax no pass o come tu hai già detto appunto no qualunque chi sono no qualcosa sì io richiamo no qualcosa dall'inizio dall'inizio della pandemia c'è stato un gruppo consistente di persone che per carità avranno avuto anche alcune buone ragioni o forse non del tutto buone che hanno detto no a qualsiasi cosa a cominciare a cominciare dal primo no che è stato il no all'esistenza del virus il virus non esiste no covid no un po' il testimonial di questa posizione era Angela Damondello no covid non ce n'è più covid è finito covid ecco mai affermazione è stata più grossolana e purtroppo anche meno veritiera di così il virus esisteva già da prima ma ha continuato a esistere in estate ha continuato a diffondersi anche per tutto l'anno scorso fino ad ora quindi non è una battaglia che stiamo vincendo facilmente Daniele non per farti pubblicità visto che hai citato Angela Damondello forse ora che non è più sotto il riflettore avrebbe bisogno del tuo aiuto beh questi sono sono personaggi particolarmente estroversi diciamo dotati di una notevole energia psichica che però non sempre direzionano in maniera congrua e adeguata anche il successo mediatico che questo questo personaggio così tipicamente palermitano e così diciamo impregnato di quella che è l'antropologia mi verrebbe da dire le caratteristiche antropologiche del palermitano anche simpatiche però alla fine dannose in quel periodo in quel periodo siamo nell'estate dell'anno scorso diffondere informazioni che andavano verso la negazione del fatto che il virus fosse ancora attivo e si stesse preparando per un'ondata successiva come era molto facile prevedere ragionando sulle cose questa affermazione poteva risultare ed è risultata molto dannosa perché qualche settimana dopo abbiamo visto quello che è successo nelle discoteche della Sardegna e che cosa poi è successo in tutta Italia alla ripresa delle scuole alla ripresa delle attività lavorative in presenza insomma ci è costato altre decine di migliaia di morti ecco rispetto a tutto questo dire no covid no mask e no qualsiasi cosa cioè chi lo ha fatto si è assunto una responsabilità molto ampia perché non avendo alcuna base scientifica per affermare tutte queste forme di negazione però ha contribuito a diffondere false informazioni che possono avere contribuito a rendere incauti i comportamenti di molte altre persone qualcuno qualcuno brutalmente qualcuno brutalmente si è chiesto ma indirettamente i novax di quanti morti sono stati irresponsabili forse questa domanda è un po' è un po' violenta nella sua psicologia però ha un senso certamente perché diffondere notizie significa andare a modificare le condotte e i punti di vista e le scelte comportamentali di molte altre persone che magari il livello di protezione e certamente quindi abbasso enormemente il livello di protezione generale della comunità senti Daniele un altro aspetto che diciamo così come dall'uomo da marcepiede l'uomo dalla strada che vede questo passaggio diciamo degli adolescenti che in dadde si sono ritrovati davanti a un monitor per ovviamente un tempo molto lungo a dover seguire le lezioni quindi come dire mancava il contatto tra compagni che va di tutto va dallo scherzo alla battuta alla manoelleria che serve comunque a far crescere questo oggi crea un deficit giusto? Certo il problema degli adolescenti è stato uno dei più importanti e delicati e complessi dal punto di vista degli effetti psicologici negativi senza alcun dubbio la fascia adolescenziale è stata una delle più esposte al danno diretto e indiretto legato alla pandemia per tutte le restrizioni le limitazioni le rinunce la perdita della socialità la perdita degli spazi condivisi che sia il campetto di calcio la palestra la pizzeria il pub la discoteca l'oratorio della chiesa da un momento all'altro i ragazzi si sono trovati privi di qualsiasi dimensione di incontro di dialogo di confronto di chiacchiera e questo ha comportato un danno notevole cioè se una persona a 40 anni o 50 anni rinuncia per qualche mese alla propria vita sociale succede poco magari contribuisce a dare una sfumatura un po' malinconica dell'umore però sono cose che gli animassi ma si recuperano facilmente ma per un ragazzo che vive un periodo di crescita e di sviluppo assolutamente speciale importante in cui si vengono a determinare sia a livello neurobiologico sia a livello socio-relazionale dei cambiamenti fondamentali che avranno delle ripercussioni importantissime sul suo sviluppo futuro e sulla sua vita futura questa perdita non è più colmabile e quindi si tratta di un danno veramente importante un danno grosso che naturalmente in alcuni casi può essere stato minimizzato dal fatto di trovarsi in contesti familiari molto adeguati molto protettivi dal punto di vista affettivo e quindi che hanno in qualche maniera così elargito delle protezioni speciali e quindi delle garanzie un po' di maggiore stabilità e equilibrio ma in linea di massima il prezzo che gli adolescenti hanno pagato è stato veramente molto alto e questo guarda Ludovico è anche confermato dalla quantità degli accessi al pronto soccorso effettuato da ragazzi tra i dodici e i diciotto anni che è praticamente raddoppiato rispetto agli anni precedenti con un aumento molto intenso di quelli che sono atti di autolesionismo tentativi di suicidio consumo di sostanze stupefacenti quindi sono tutte questa aggressività che si vede aggressività certamente che vanno contro il singolo che vanno contro che si danno appuntamento per fare questi scontri tra tra gruppi rivali sì quelle sono però guarda io ci ho riflettuto un po' su queste sempre esistiti magari sotto certi aspetti non c'era effettivamente la pandemia la pandemia un po' li ha sdoganati queste situazioni però io vedo per quanto in modo disfunzionale in queste in queste riunioni per prendersi a botte che diciamo sono state frequenti fino a qualche mese fa una sorta di tentativo certamente incongruo certamente da condannare che però segnala la voglia di recuperare la fisicità il corpo l'aggressività quindi la dimensione istintuale che è stata fortemente penalizzata e castigata certamente prendersi a botte non è il modo migliore per recuperare tutto quello che ci è stato tolto però se noi ci mettiamo nella mente di un ragazzo quella è una modalità pseudo sana di volere riprendersi qualche cosa che la pandemia ci ha allevato in maniera molto pesante soprattutto ha allevato all'oro il corpo l'incontro lo scambio l'emotività l'istinto la consapevolezza certo proprio da questo commento che è arrivato mi viene proprio una domanda noi non sapevamo di molti valori che avevamo prima della pandemia della libertà veramente a 360 gradi il covid è come se avesse fermato la nostra corsa per farci vedere anche abbiamo visto come la natura si è riappropriata degli spazi in quel diciamo breve breve no ma in quei mesi che siamo stati bloccati però passato tutto si ritornerà come prima o non si ricorderà quale sono veramente i valori che diciamo la pandemia ci ha bloccato in quel in quel lockdown guarda Ludovico io ho una speranza e un timore rispetto a quello che stai dicendo tu a parte che ricordo veramente con una certa emozione tutte le immagini che ho visto anche diciamo nella nostra città di spazi naturali che in qualche maniera hanno recuperato un antico splendore mi verrebbe da dire animali che hanno ripreso spazi che prima erano erano stati in qualche maniera dominati dalla presenza umana e che invece si sono un po' riappropriati molte specie selvatiche anche che hanno invaso alcune città ci sono immagini bellissime di animali che non si vedevano da decenni nelle metropoli e che diciamo il lockdown ha favorito questa questa riappropriazione di spazi l'acqua dei fiumi dei laghi che è diventata molto più lipida e pulita certo la speranza sarebbe che questa grande e tragica esperienza che finora c'è costata 5 milioni di morti a livello mondiale 5 milioni 132 mila soltanto in Italia possa e debba rappresentare un'occasione imperdibile per ragionare sia a livello di singolo individuo sia a livello di comunità di istituzioni di politica di agenzie educative di ragionare se le linee di sviluppo che ci siamo dati sono veramente le migliori possibili o se invece non vale la pena ripensare a uno sviluppo più sostenibile che preveda una convivenza più armonica e solidale non solo tra noi esseri umani ma tra gli uomini la natura in un progetto di sviluppo che tenga conto di quello che è successo durante questa pandemia che certamente si è potuta valere anche di alcuni disastri ambientali che l'uomo ha messo in atto per esempio attraverso tutte le problematiche legate alla crisi del clima e anche al degrado degli ambienti naturali certamente questi sono stati tutti i fattori che hanno in qualche maniera influenzato la diffusione del virus quindi ripensare la comunità come una comunità solidale ripensare il rapporto dell'uomo con la natura ma soprattutto il rapporto della comunità umana con le linee di sviluppo sostenibili questo è l'argomento centrale io spero che tutto questo possa diventare un argomento e un tema di approfondimento e di riflessione mi pare di cogliere qualche aspetto positivo l'insistenza con cui si accenna l'esigenza di diffondere politiche green una sensibilità green quella che io e il mio gruppo di ricerca stiamo affrontando anche in un lavoro che stiamo portando avanti che è lo sviluppo dell'intelligenza ecologica quindi della sensibilità per gli stili di vita cosa consiste questo lo sto spiegando l'intelligenza ecologica è quella che consente a ogni essere umano quel particolare tipo di intelligenza quindi un particolare aspetto del funzionamento cognitivo della nostra mente che ci porta ad avere maggiore propensione a mettere in atto stili di vita naturali e quindi stili di vita sani stili di vita che vanno a favore del benessere riguardo all'alimentazione al sonno all'attività fisica all'evitare le sostanze tossiche le droghe il fumo di sigarette tutto quello che aiuta il nostro benessere e che contemporaneamente ci fa avere una sensibilità maggiore nel rispetto dell'ambiente nel rispetto della natura quindi stili di vita sani benessere individuale e collettivo è anche un legame armonico e complementare con l'ambiente naturale questa è l'intelligenza ecologica io credo che la pandemia ci abbia dato un'occasione straordinaria veramente unica per poter riflettere su tutto questo e per dare una direzione leggermente diversa al nostro sviluppo perché io credo che metterci in un treno ad alta velocità che non è guidato da nessuno e che non si sa dove sta andando non è un modello di sviluppo che noi possiamo accettare come sicuro tranquillo e che apporti benessere sicurezza e armonia al futuro nostro e dei nostri figli certo dico una battuta ovviamente facilissima per molti ci vorrebbe il cervello biodegradabile specialmente per chi ci governa però ecco ritornando alla nostra serietà forse questo sarebbe veramente un grande input per le scuole proprio dalle elementari a far capirle questi questi principi perché qui a togliere le materie a togliere le materie va a finire che questi bambini non perdono proprio il senso civico vero Daniele? è certo che perdono il senso civico sai oggi riflettevo proprio in maniera specifica su questo aspetto del senso civico ma andiamo magari andiamo un attimo fuori tema ma credo che sia importante cioè stamattina mentre andavo in clinica in macchina ho sentito questa notizia un po' raccapricciante che davvero crea un fastidio a fior di pelle che la guardia di finanza ha individuato settecentomila euro di redditi di cittadinanza percepiti indebitamente illegalmente e in particolare ha individuato due falsi indigenti di cui uno possedevano a Maserati e un altro aveva da poco vinto un milione di euro alla lotteria eppure questi signori percepivano qualche centinaio di euro di bonus di reddito di cittadinanza ora pensate un ragazzo che sente questa notizia cioè che cosa ne è del suo senso civico se qualcuno non lo aiuta a comprendere che questi sono atti di una gravità tremenda cioè una persona ricca milionaria che sottrae poche centinaia di euro al bene comune e che andrebbe destinato a persone realmente poveri e che non riescono ad arrivare a fine mese dimostra un senso civico non pari a zero sotto zero ecco allora forse noi abbiamo bisogno di educare i nostri giovani i nostri ragazzi e anche a renderli sensibili a queste mostruosità che ogni tanto la cronaca ci restituisce e che rischiano di passarci addosso con una noscialance tremenda perché ci abituiamo ormai quasi a tutto ecco invece non ci dobbiamo abituare a questi aspetti negativi bisogna discuterne farne oggetto di riflessione ragionarci perché questi sono gesti arcaici sono comportamenti arcaici che denotano che alcuni soggetti sono ancora fermi all'idea primitiva di avere un atteggiamento predatorio e di avere la bramosia di afferrare di tutto di più anche se questo danneggia la comunità e il contesto nel quale vivono certo è una situazione abbastanza pesante senti Daniele che noi siamo arrivati piacevolmente alla conclusione del nostro incontro quale potrebbe essere diciamo un invito un consiglio una sorta di non dico di codice ma quantomeno di maniera per guardare con lungimiranza quello che ovviamente ci aspetta forti di questa esperienza ma io credo che questa esperienza ci possa spingere a cercare di vivere bene e di vivere meglio in un'ottica però relazionale in un'ottica allargata mi verrebbe da dire sistemica nel senso che il nostro benessere non deve escludere il benessere degli altri questo è il messaggio fondamentale che ci viene dal covid cioè capire che noi siamo interrelati e quindi lavorare per il nostro benessere non deve escludere il benessere degli altri quindi un benessere che si allarghi a tutto il contesto nel quale viviamo e che venga raggiunto anche con aspetti come la buona volontà l'impegno la responsabilità buona volontà impegno e responsabilità non sono qualità che oggi diamo per scontate perché vediamo che sono aspetti che nell'educazione dei giovani non sono così insistiti come magari una volta esagerando si faceva adesso siamo passati da un estremo all'altro l'estrema insistenza sulla responsabilità personale sull'impegno che bisogna garantire negli studi nella formazione nel lavoro oggi è praticamente disatteso il discorso sull'impegno è praticamente disatteso in molti contesti educativi a cominciare da quello della famiglia ecco noi dobbiamo costruirci un'idea di benessere che richiami però un impegno attivo e una responsabilità attiva di ciascuno di noi impegnarsi per stare bene e avere la responsabilità del nostro e dell'altrui benessere questo è importante io ti trasferisco un'infinità di messaggi che ho ricevuto di congratulazioni appunto per come hai esposto in maniera semplice un problema abbastanza importante e quindi già io so che tu sei un carissimo amico e che io approfitto della tua generosità però ti chiederò altre volte di venire in trasmissione affronteremo ecco degli argomenti che ovviamente sono sul piatto della quotidianità quindi ti ringrazio tantissimo grazie grazie a voi e a chiunque ha ascoltato grazie Daniele alla prossima ciao a presto 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 Grazie a tutti